Bitcoin ci prova a reagire, è un piccolo app che coincide con quello che abbiamo detto proprio nel video di venerdì relativamente a questa fase ragazzi di ripresa e poi ovviamente dovevamo andare a vedere se regge oppure se fa quella famosa chiusura di cui vi ho parlato proprio nel video di mercoledì. Ma intanto l'app l'ha fatto quindi un primo tassello è stato inserito in questo puzzle poi ovviamente i prezzi si devono seguire dobbiamo ragionare ci sono dei livelli sopra il quale magari questa view un po' ribassista ma in realtà è un laterale ribassista viene messa un po' in discussione. Sì ci sono li vediamo oggi bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video video lunedì recap di analisi settimanale sulla ciclica di Bitcoin analisi tecnica di Bitcoin vediamo anche Ethereum come è messo i dati delle news che stanno uscendo questa settimana e che potrebbero smuovere le acque non c'è granché già ve lo anticipo e un po' tutti i nostri ragionamenti e anche un po' quello che teoricamente sono dei livelli che potrebbero essere estremamente interessanti per chi magari volesse optare per fare delle scelte di trading proprio per questa settimana. Va bene allora ragazzi prima di passare alla ciclica come sempre andiamo a vedere quelle che invece sono le news della settimana ragionando un po' su quelli che possono essere i dati macroeconomici che potrebbero un po' muovere le acque. A dire la verità ragazzi secondo me da qui in poi cioè dalle ultime settimane in poi i dati macro hanno perso un po' la pill che avevano nei mesi scorsi questo molti di voi magari ragionano in maniera differente però ragazzi è assolutamente normale. Io a novembre scorso vi dissi proprio che i dati macro, le news in generale hanno una funzionalità momentanea sui mercati come nel caso appunto del rialzo dei tassi di interesse. Successivamente al di là di poche volatilità che possono produrre in alcuni momenti se i dati sono troppo diversi da quelli che sono le attese sostanzialmente quello che fanno i mercati è averle già assorbite. Quindi secondo me ci avviciniamo in maniera abbastanza radicale a quelle che sono effettivamente i momenti in cui le news ritornano a non avere un gran valore sui mercati perché semplicemente i mercati seguiranno la loro strada. Ci sono un po' di costettini ancora che secondo me i mercati andranno a valutare e sono essenzialmente legati ai rialzi dei tassi di interesse prossimi o meno della Fed e al rientro totale del tasso di infrazione. La richiesta di sussidio di disoccupazione deve essere mantenuta comunque a livelli adeguati ma anche qui ragazzi secondo me viene meno anche l'ipotesi che se l'occupazione inizia a peggiorare i mercati festeggiano perché in realtà la Fed ha comunque ormai alzato i tassi ai massimi che i mercati si attendevano perciò i giochi sono fatti dal mio punto di vista. Comunque in ogni caso i dati macro di questa settimana che possono essere importanti sono intanto il discorso della Lagarde di domani che possono essere diciamo importanti. Poi abbiamo il tasso di infrazione europea che addirittura ragazzi è previsto in aumento. Allora qui un tasso di infrazione al di sotto del previsto quindi del 7% che magari sia anche al di sotto del dato precedente del 6,9 potrebbe essere atteso positivamente sui mercati. L'Europa è lontanissima dal controllo del tasso di infrazione quindi i rialzi dei tassi da parte della BCE continueranno assolutamente nei prossimi mesi. Per quanto riguarda poi il giorno giovedì abbiamo le richieste dei sussidi di disoccupazione e anche la vendita delle nuove abitazioni esistenti che la prenderei in considerazione ma poi il clou sarà il discorso di Powell. Come sempre il venerdì 19 maggio cioè sia quello di Powell che sia quello della Lagarde però secondo me da questo discorso i mercati decideranno la strada a prendere relativamente a questo grafico cioè il prossimo Fonk che è tra un mese esatto. Il 14 di giugno circa e quindi un mese scusate circa un mese e due ore e qui questo rialzo dei tassi non c'è ragazzi quindi i mercati stanno scontando che la Fed non alzerà i tassi. Però secondo me si baseranno molto su quello che sarà il discorso di Powell proprio di questo venerdì 19 quindi da un punto di vista tecnico direi che la volatilità è attesa per venerdì 19 ore 17 se siete in Italia. Ed è anche un po' corretto guardare quelli che sono i dati di mercoledì sul tasso di infrazione dell'Europa. Andiamo a guardare invece la questione ciclica su i mercati cripto iniziando dal solito Nasdaq 100 che ha perfettamente rispettato quella che era la questione ciclica del ciclo settimanale e poi dell'ambito del bisettimanale diciamo che dovrebbe essere inerente a questa fase di chiusura che dovrebbe stare per chiudere diciamo questa fase. Io andrei un po' più lungo su questo mercato altrimenti poi veramente facciamo una ciclica troppo puntigliosa e spesso insomma rumorosa diciamo così rumorosa significa in termini statistici che poi piena di errori che devi andare sempre a correggerla quindi sostanzialmente non ha senso farla in quel modo. Allora però in questa fase a meno che non sia ovviamente trader provo che state ogni giorno sui grafici allora in quel caso mi serve per fare le operazioni però qui sul video YouTube. E in questa zona ragazzi questo mensile di Nasdaq inizia ad essere un mensile un po' tirato perché io la differenza rispetto agli altri mensili la vedo molto evidente. Allora se qui vediamo appunto questo mensile che aveva fatto questa parte di app poi qui c'era stato un bimensile ma comunque grosso e aveva fatto quest'altra parte di app solo questo iniziale ma eravamo ancora a novembre c'è un po' nella fase proprio acuta della questione del tasto di inflazione. Qui gli ultimi due mensili sono stati molto rialzisti invece qui ragazzi se vedete il tasto di accelerazione del trend rialzista di Nasdaq inizia a stentare perché questo è una fase in cui il mercato americano è comunque già tirato in maniera importante rispetto a quello che è la fase probabilmente anche economica. Cosa succede? Se andiamo a considerare i cicli annuali anche di Nasdaq si evince che qui siamo al 24esimo giorno 147 barre se così vogliamo identificarle. Allora se andiamo per struttura dei cicli annuali stiamo passando nella seconda parte del ciclo annuale del mercato perciò questa è la zona non aria parlo temporale anzi facciamo così così non vi confondete. Questa è la zona temporale di debolezza che ovviamente man mano che si avvicina la scadenza tecnica attesa più o meno per settembre il mercato può acuire le probabilità di avere una zona magari un po' più pronunciata di ribasso magari una cosa del genere ragazzi. Ciò significa che i mensili da qui in poi e anche i sottocicli iniziano ad essere più deboli il mercato potrebbe andare a cercare un massimo relativo di periodo per questo ciclo annuale anche sul Nasdaq 100 per poi stornare fare la fase riflessiva del ciclo annuale ed è tutto nella norma. Niente di anomalo anzi a dire la verità in base alla chiusura del ciclo annuale che verrà magari sul Nasdaq 100 si potrebbero prendere perché no delle posizioni poi in deep sulle stocks proprio in conclusione della fase naturale ciclica negativa perché poi ne inizia un'altra. Quindi il tutto ragazzi siccome i mercati sono ciclici ormai questo l'avete capito in maniera abbastanza evidente il tutto sta nel comprendere da che parte vogliamo guardare il bicchiere mezzo vuoto mezzo pieno e se lo guardiamo mezzo pieno in questo caso dice ok fa un minimo entro appunto poi in quella fase per un eventuale recupero. Se lo andiamo a guardare mezzo vuoto diciamo ah sta iniziando una fase magari di ribasso però in realtà i mercati vanno valutati al punto di arrivo cioè dove arrivano va valutato il prezzo e va compreso se quel prezzo è molto basso o piuttosto alto perché anche una campana ribassista che però viene mantenuta a un prezzo non troppo basso è positiva per i mercati perché non si può crescere sempre quindi questo è assodato ed è così. Quindi iniziamo a monitorare anche queste chiusure dei cicli mensili di Nasdaq in maniera regolare soprattutto questo che chiude a fine mese di maggio. Passiamo invece a Bitcoin andiamo a vedere la struttura del ciclo mensile di Bitcoin. Allora la scorso mercoledì abbiamo parlato della questione legata al fatto che Bitcoin con questa fase ribassista l'ultima che è stata ha probabilmente chiuso una struttura ternaria di un B mensile cioè sono due cicli mensili messi insieme. di natura ternaria così è stato perché il mercato ha chiuso nella giornata del giovedì 11 maggio il 62 giorni creando in pratica una struttura ternaria di due mensili quindi due mesi uniti da una struttura ternaria di cui uno rialzista uno in laterale o neutrale si definisce così e l'altro addirittura ribassista. Ora la domanda è questa qui questo struttura questo ultimo ciclo del 12 scusate non 11 12 maggio questo ultimo ciclo questo ciclo che è iniziato qui che è sicuramente un ciclo nuovo rispetto ai precedenti non sappiamo ancora in maniera definitiva se effettivamente è un mensile però dovrebbe essere un mensile diciamo che sta rispecchiando alla perfezione quello che abbiamo detto nel video anche di venerdì andatelo a vedere ragazzi se non l'avete visto e però questo mensile può essere o il primo di un nuovo ciclo trimestrale che in questo caso noi indicheremo un trimestrale corto molto corto qui perché sono 60 giorni non barre ragazzi questo sì sono anche barre però molto corto 60 giorni un trimestrale e perché sono giorni compresi sabato e domenica è giusto per intenderci. Se invece qui è iniziato come in quel video l'ultimo movimento questo rialzo alle gambe cortissime ragazzi perché fa un'app iniziale dopo di che inizia questa fase di chiusura e deve andare a chiudere tutta la struttura ciclica compreso il trimestrale con una nuova fase di ripasso che a quel punto non può esimere dall'arrivare al minimo del 12 maggio cioè deve ritoccare i 25.000 e 8 più o meno o scenderci un po' giù se la teoria ciclica viene rispettata questo significa che questo ciclo attuale è pericolosissimo è anche vero che nei cicli pericolosi ci sono anche i game più ghiotti cioè se questa centratura non viene rispettata ragazzi e i mercati hanno chiuso un trimestrale e da qui parte un nuovo ciclo trimestrale questi prezzi sono buoni perché il nuovo trimestrale non ha vincoli ovviamente al ribasso può addirittura fare nuovi massimi quindi tutta questa cosa qui per dirvi che dal mio punto di vista io sto valutando l'ipotesi 1 che vi ho detto quindi questo ciclo mensile al ribasso o laterale ribassista che chiude il ciclo intero anche perché c'è una questione sugli inversi che non ve la butto lì lunga perché se no poi te diavo chi non magari iperferrato nella ciclica però nulla vieta al mercato di continuare questo trend o una posizione long aperta l'abbiamo in academy con una strategia che questa volta andrà probabilmente in losso ma che stiamo cavalcando questo fase rialzista proprio per chiuderla al miglior prezzo ve lo dico in maniera molto semplice è una nostra strategia mensile fa solo long non può far short quindi nelle fasi di ribasso non può vincere insomma questo l'ho programmato io perché sapete non voglio fare short su bitcoin però da un punto di vista tecnico queste fasi di ribasso poi le gestiamo bene vi dico già da subito che il ribasso è quasi insignificante parliamo dell'1-2% quindi cifre veramente ridicole però stiamo tentando di vedere se riusciamo anche a chiuderla in break even senza andare addirittura in loss sarebbe un miracolo in una fase ribassista perché quella è una strategia di un mese che in questo caso il mese non ha rispettato proprio le ipotesi che noi avevamo detto però questa fase rialzo io la uso per quello ragazzi ve lo dico cioè per chiudere quelle posizioni poi qualora il mercato dovesse continuare a spingere al rialzo rientrerò su prezzi più alti chiaramente il mercato mi giocherà un brutto scherzetto però in questa fase non mi sento di andare a trattare questo ciclo attuale perché lo vedo un po' pericoloso tutto qui ragazzi è sempre una scelta di trade off tra quello che sono le analisi e quello che poi il mercato farà quindi a volte il mercato non rispetta quelle analisi ci prende in contropiede ma poi abbiamo la strategia 2 che ci fa rimettere a filo col mercato perché il gioco delle parti è gestire quando le cose vanno male ragazzi no questo è bisogna fare gli analisti fanno questo ricordatevelo sempre non prevedono il futuro gestiscono le cose quando non vanno verso la nostra strada dobbiamo avere due piedi in sette scarpe diciamo sempre così va bene allora detto questo il rialzino probabilmente del gatto morto allora quali sono i livelli che dobbiamo andare a guardare per quanto riguarda bitcoin se vogliamo auspicare che questo movimento al rialzo sia leggermente più pronunciato intanto il canale ribassista laterale ribassista che sta stringendo il sta stringendo il mercato delle crypto quindi bitcoin stesso non è corretto perché c'è il log ma sono pochi giorni quindi sarebbe insignificante a livello matematico non usare le rette ragazzi quindi non cambia niente questo lo dico per i matematici che mi guardano però allora qui intanto ovviamente il superamento di un canale rialzista ribassista di questo tipo se vale l'ipotesi 1 che vi dicevo che il mercato fa il rialzo per poi chiudere il tutto non lo può fare quindi il breakout di questo livello è quasi indicativo del fatto che l'ipotesi di una nuova fase di minimo è da abbandonare la verità è che proprio a livello tecnico matematico sarebbe questo il livello da battere 29.600 ma è comunque troppo alto sarebbe difficile poi da trarre però giustamente a livello matematico è questo il livello da da battere però al momento ragazzi siamo sotto le mie due medie mobili c'è stato l'incrocio al ribasso le mie due medie in questo momento fungono da resistenza per bitcoin non ci si è avvicinato neanche un pochino anche se va qui poi probabilmente stenta e da lì bisognerà andare a valutare questa questione io il questo rialzo lo attendevamo appunto in academy ragazzi è stato proprio lo avevo anche indicato è arrivato anche un po più di otto del previsto vi dico francamente lo usiamo come exit strategy i long dei holding eccetera sono stati chiusi ragazzi ma quelli seguono un trading system quindi anche volendo fra due giorni magari se il mercato va bene quello rientra perché quello segue una macchina programmata da me quindi è una macchina però al momento non mi aspetto grandi cose da questo mini due giorni rialzista vi dico francamente mi aspetto solo la conclusione di questa fase però alla fine anche di questa conclusione di questa fase ragazzi quindi bicchiere mezzo pieno la questione si mette bene perché perché da qui in poi se dovesse veramente andarsi a configurare una cosa del genere ci potrebbero essere delle occasioni perché inizia un nuovo ciclo trimestrale e solo lì bitcoin magari potrebbe avere la possibilità di rispingersi vicino ai massimi per il 2023 perché successivamente la vedo molto difficile perciò questa è una fase interessante perché intanto il mercato non sta scendendo tantissimo siamo comunque a 27.400 e indice che sta scrollandosi di dosso tutto lì per comprato che aveva fatto nei giorni precedenti sta sistemando in sincronia tutti i vari cicli che ci sono compresi gli inversi eccetera li fa un po' sbottonare per quanto sia dovuto diciamo questo parliamone diciamo così e poi successivamente può avere le forze per rincarare la dose magari in una seconda parte è molto rischioso quindi ve l'avevo già spiegato io mi aspettavo che settimana scorsa riuscissimo ancora a toccare i 32 non ce l'ha fatta perciò ragazzi è molto rischioso da qui in poi si naviga su cicli inferiori da trader gli holder entrati a 21 state fermi a 21 perché ovviamente non c'è niente da fare non sono così finanziari ma ragionamenti ovviamente logici perché se siete holder di lungo 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 è inutile che qui fate mani quindi il punto di ingresso era quello lì che abbiamo indicato a inizio dell'anno è arrivato ve l'ha dato il bitcoin ve lo tenete e ci sta ci dormite sopra ecco tutto qui perché perché il vero vero ciclo da monitorare poi sarà probabilmente l'anno prossimo il prossimo ciclo annuale andiamo a vedere quelli che sono invece i cicli su ethereum che sta un po' facendo poi di spoiler un graficone che andremo a vedere a proposito qualcuno di voi mi hanno detto Mauro la ciclica su Matic se riesco facciamo una live ragazzi insieme le guardiamo tutti insieme la ciclica su Matic è in chiusura di un ciclo annuale di una pulizia incredibile l'abbiamo indicata due mesi fa è arrivata alla perfezione quando vi dissi Matic è da diciamo mantenere un po' distante per un po' di tempo attenzione però perché anche lì poi quando chiude il ciclo è un'ottima cripto da andare a posizionarsi per andare a posizionarsi allora struttura di ethereum difficile difficile da strutturare perché c'è la questione se il ciclo annuale è iniziato qui o qui con una struttura di anomalia tecnica molto particolare teoricamente è iniziato a giugno insieme alle altre cripto se così fosse questo è il massimo ragazzi del ciclo annuale con una buona probabilità 60-70% e quindi da qui in poi il mercato anche se sale poi tenderà in pratica a fare la chiusura del ciclo annuale questo grafico qui se così conferma diciamo andrà ci conferma anche l'ipotesi del rapporto bitcoin ethereum estremamente rilevante proprio che si avvicina nella zona off limits dal 22 maggio in poi questa struttura ciclica che era un semestrale corto da 130-150 giorni sta andando nella fase di debolezza questo significa che ethereum da qui dovrebbe iniziare a scendere rispetto a bitcoin ma è naturale che faccia questo non è una cosa brutta va bene è la classica fase di debolezza chiusura di un ciclo quadrennale ethereum l'ha sempre fatta vi ribadisco che da qui bisogna andare attentoni perché un ciclo di 4 anni ragazzi sapete che volatilità può avere un 10% di volatilità su un ciclo di 4 anni di spasa di 3 mesi cioè giusto per comprendere questa cosa no? un 10% di volatilità nei mercati è nulla come analisi no? quindi insomma capiamoci però è importante almeno dal mio punto di vista questo grafico perché ci dà il rapporto di quando un alt season potrebbe avere senso e ancora non ci siamo vi avevo detto ci vuole almeno giugno da giugno ne parliamo ci siamo quasi ragazzi stiamo entrando nella fascia di non ritorno non che a giugno parta l'alt season qui chiude la struttura ciclica e dopo giugno ne parliamo cioè parliamo di quando fa il minimo poi se inizia una nuova fase ovviamente lì ci sarà da fare critto picking assolutamente quindi anche il grafico di eth subisce queste questioni qui identico a bitcoin è la struttura del ciclo mensile che vedete ha fatto un doppio mensile da 63 giorni qui mi puzza un po' a livello semestrale se lo uniamo a livello semestrale ci può stare 180 72 giorni un semestrale ci può stare non so ragazzi mi sembra un po' una chiusura povera per un semestrale qui qualcuno di voi estremamente bravo nella ciclica capisce queste cose che sto dicendo l'ipotesi dell'eventuale troncamento la valutiamo poi nei prossimi video va bene allora fase secondo voi attuale rimbalzo del gatto morto sì o no scrivetemelo nei commenti confrontiamoci è fantastico perché molti di voi sono molto bravi in ciclica e sono contentissimo di questo e sono anche molto bravi nel trading la community italiana dei trader del critto da quando ho iniziato ragazzi il 2018 su youtube veramente c'era in nulla la praterina del deserto ha fatto passi da gigante quindi fatevi un applauso siete fantastici proprio ed è anche il ruolo che ricopriamo qui no dando queste nozioni queste idee open your mind trend is your friend abbiamo veramente stampato con il il timbro alcuni concetti fondamentali per chi li ha saputi recepire che poi quello è la chiave non si possono aiutare tutti ma solo chi vuole aiutato insomma desidera essere aiutato allora cosa ne pensate voi fatemi sapere secondo voi questo mensile corto veglio lungo di bitcoin è debole sì o no oppure il mercato sta giocando sporco e parte un suiluro a rialzo noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao